Richard Retro Perché è famoso, grazie a noi youtuber è famoso che non cito, se no mi ruba le visual E quindi signori doveva, in realtà doveva essere un'altra la seconda serie Ma devo ancora capire bene come registrarla Quindi signori iniziamo con Serious Sam HD The First Encounter Il primo capitolo della serie del 2001 Se non vado errando La trama la saltiamo perché? Perché ve la spiego io velocemente Degli alieni hanno invaso la terra e Serious Sam è qui per salvarla Che storia proprio meravigliosa Vediamo cosa ci propone il video iniziale Sole, luce, deserto Tra l'altro alieni, tutta l'ambientazione è di tipo egizio Non so neanche come andrà sta serie Non so neanche se sarò capace di giocarci in modo adeguato Ci proveremo dai Per ora ho messo a livello normale, speriamo vada bene Non so Guardate che bel tempio Sostanzialmente dovremo ogni livello recuperare degli artefatti Degli artefatti con le varie armi Spero di riuscire a farvi capire perché adoro sto gioco Non l'ho rigiocato di recente E' proprio per questo che ho voluto portarlo Perché così, no? Sono più o meno un vizio anche io E vediamo cosa ne esce fuori Ho paura Per ora intanto vediamo Questa bella scenetta Ah, vi chiedo di portare un attimo pazienza Perché come al solito devo Postare l'emulatore Capire l'audio com'è Capire la grafica Poi finisce come ho detto storica L'ultima puntata Siamo ancora lì A sbagliare Tutto Portate il paziente Un giorno ce la farò Guardalo qua Ogni missione ha Come succede la spessione i giochi I vari giochi vecchi Ha tutte le varie info Eccetera Noi poco ci interessano Abbiamo Questo nettrisa Che ci guiderà Nelle nostre missioni Analizzando gli artefatti E tutto Perfetto Oh mio dio Sì, siamo pronti alla battaglia Chiaramente la sua voce è in inglese Questo è un peccato Perché Una delle cose più fighe del gioco È Le citazioni che molla questo Personaggio Guardate che meraviglia Sì, questi nemici hanno una testa in mano Non chiedetemi perché ma Si vedranno nemici Molto particolari Ci saranno citazioni E E urli molto fighe Dov'è cazzo questo? Questo Non so se l'avete sentito Sì Queste sono pozioni della vita Se non vado al random Non me la fa prendere perché siamo full Ce la facciamo? Perfetto E Vara che bello Cos'ha in mano figlio mio Allora Vediamo di ripigliarci un attimo a primo livello Speriamo subito di trovare La mia arma preferita del gioco Che non vi dico qual è perché Senti la musichetta Chiaramente È un FPS Tutti i livelli sono così a ondate sostanzialmente Cioè si fa a livello ogni stanza diciamo no? Ha più o meno l'ondata di nemici che arriva Un'altra doppia doppietta La shot field No doppietta il cazzo Shot field punto 45 E È anche un po' Us Use è la U Giusto? Cosa ha detto? Serious La U non me la fa usare Press use Eh non ce l'ho use Che devo fare? È questo? Ah vedete sblocchiamo i nemici Questo è uno gnarr Female Una femmina Non so perché Le armi Qua ci dà le varie statistiche di livello Ma a noi non interessa Interessano poco Shield Scudazzo Facile Sarebbe figo anche riuscire a giocarci online Mi Posso titolare nemici? Sì Uno tipo di nemici Se riuscirò a informarmi in qualche modo Perché visto che lo sto giocando da Steam Se riuscirò in qualche modo a giocarci online E il gioco piacerà Mamma mia assolutamente Qualche puntata ce la tiriamo fuori Andiamo in acqua Ci prendiamo un po' di acqua Eh qua Se mi arrivano questa Ma io Com'importano sinceramente Questa è una Un pollazzo di vita La vita è quella in basso a sinistra Siamo a 100 Ovviamente è anche pieno di armi Cioè ragazzi Bisogna viverlo questo gioco È una meraviglia Io l'adoro Dicevo che l'ho sciolto anche perché È un pochetto jumpscare Nel senso che Ogni tanto mi cago in mano io Cioè io sono una persona che Ho solo 10 munizioni Questi Questi sono i maschi Che piccoli Ecco ci stiamo già facendo Inculare Ci diamo quelli Rossicano la mamma un po' Ok C'è anche coltello Immancabile Arma corpo a corpo Munizioni infinite Eh dicevo Se riesco a parlare Tra l'altro non potrò Troppo alzare gli occhi Dallo schermo Perché Se molli un attimo Lo sguardo Ecco perché Ve lo stavo dicendo Questi qua mi fanno una po' Questi me li ricordo Perché ci giocavo da piccolo Con un mio vecchio amico E queste robe Mi facevano morire Della paura Le odio Mi fanno cagare in mano Sempre E dicevo che è anche un po' Jumpscare Nel senso che Ogni tanto sbucano I mostri così Qua Qua al cuore Si blocca l'arteria Fa tanta paura Allora Prima missione è andata Siamo andati Dall'altra parte Della montagna E siamo molto vicini Al tempio di Tutmose Tutmose Bisogna andare nel templio Ma stare attenti Perché i super sensori Del nostro computer Di mondo Che si chiama Netrixa Sentono qualcosa All'interno Ma Non vi ho detto all'esterno Aiuto Quindi Spero di non fare Troppi infarti Perché proprio Mi viene anche l'urletto Da Da No dai Speriamo di no Questi sono i kamikaze C'è una persona Decapitata A petto nudo Con due bombe in mano E serio Sam Giustamente Li piglia per il culo No vabbè Mi sto mai Io amo sto gioco Se si conoscono I giochi Se si sta attento Si sta attento Con l'orecchio Infatti Tenterò di giocarmelo A cuffie Sparate Tenterò di giocarmelo A cuffie sparate Perché bisogna È un must Ma ho laggiù Di quelle citazioni Quest'uomo Che si può solo Chiamare E non dico i personaggi Veramente Che C'è il tipo di personaggi Nei giochi che adoro Questi qua Proprio Mamma mia Non so neanche come spiegarvi Aiuto Devo stare attento Questo qua è un bel È un bel fucilazzo a pompa Devo dire anche Bello efficiente Però non è ancora Non è di sicuro La mia mia preferita Ci sono Doppia pistola Le pistole Hanno munizioni infinite Se non erro Aiuto Sì Mentre E il coltello Mentre dal coltello Poi chiaramente No Ci sono le Ecco sta arrivando Questi qua Mamma mia Ah 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 Che ci sono il suo compagno Guardalo qua Puttana Mi fa una paura C'è mi è rimasto Il trauma nel cuore Quello cos'è Armatura Cosa di interessante Ah sì Il busto Il busto Che mi dà 3 25 Così Numero un po' E là C'è una roba Ehm Sì ok Vediamo Sono curioso Mi viene da girare ovunque Ma Anche le limitazioni Cioè È del 2001 però Devo dire che è veramente Un gran signor di gioco Ehm Ci sono tanti titoli C'è il 2 C'è Questo si chiama The first encounter Oddio La nebbia mi fa paura Non ci vuole Eh Permesso Buongiorno Oh Salve Ok La puttana Fortuna che c'era la porta chiusa Ah è chiusa anche qui Ah ci sono Oh mio dio Che io Dovevo andare giù Messo Buongiorno So Vabbè Signori Serious C'è Tu sviluppatore Che mi tiri fuori Sta cosa Ok Basta Sei il mio idolo Tu sei un coglione Perché ti si sentiva Dio mio Questi tra l'altro Sono gli alieni Che hanno Qualcuno mi ha spinto Questi sono gli alieni Che hanno giustamente Piano piano Spero di non Gli chiami cazzo Sono dei bastardi Spero di non muovere Troppo la telecamera Perché È sensibilità 20% E si muove Non lo so Quindi portate pazienza Ma se la metto a 5 Penso che non mi si muove Neanche più la telecamera Quindi Cazzo devo farla La muoverò piano Con cimi a basso Ok Molto velocemente Tra l'altro Ho 11 messaggi Sì Dio mio Sì Senti Senti i rumori Mi cago Come Come avevo fatto prima Ah tasto destro Col tasto destro Allora mi parla del tempio Dai Sbla 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 Perfetto Direi che ci facciamo Qualche altra Questi sono bastardi In questi Qualche altra stanzina Sì il proiettile Quanto lungo è 5 km Finchè posso Io vado sempre con i revolver Perché li adoro Eh dicevo Tentiamo di fare qualche stanzina Un paio Un'altra Sei morto Facciamo una o due Poi Ok Salve Boh Posso parlare Perfetto Tra l'altro c'è anche il punteggio A punti Come fossimo in sala giochi Eh dicevo Tento di fare Possiamo già salutarci È finita Porca putta È per questo Che non scelto Io mi cago In mano In due secondi È una roba Che porca droga Mi viene già male al cuore Questo no È finita che mi ci abituo subito Eh Vale anche come gioco Salga di difficoltà A livello progressivo Comunque Voglio dire Facciamo qualche stanza Ci salutiamo Direi che per oggi Siamo a posto così Signori Questo era Serious Sam HD HD perché l'hanno rifatto Io l'ho scaricato Rifatto Non è quello originale Però portate pazienza Direi che va più che bene lo stesso Questo è Serious Sam HD The First Encounter La nuova serie sul canale Sostituendo Toy Story Tra poco finisce anche Toy Story Yoshi's Island Quindi ce ne sarà un'altra Quindi Regali di Natale Regali di Natale Ovunque Spero il video vi sia piaciuto Come primo episodio della serie Vi ricordo di Tentare di supportarla Almeno nel primo episodio Sparandola di like Di commenti Di offese Sul cazzo di gioco schifoso Che ho scelto Tutto Scrivete Scrivete robe brutte E Mentre vi saluto Vi ringrazio per accompagnare Per il sostegno Vi ricordo Non riesco a stare fermo Vi ricordo di lasciare like al video Se vi è piaciuto O di iscrivervi al canale Se ancora non lo avete fatto Quella ricerca parla E ci vediamo presto Se lo siamo HD Ciao nerds